Buon pomeriggio a tutti, è un piacere per me essere qui, ringrazio il professor Chiesa e il professore Melissano per l'invito. Nei prossimi 5 minuti cercherò di rispondere a queste 3 domande, in chi è possibile eseguire il transesofagere, quando eseguirlo e perché eseguirlo, in pazienti che sono in questo tipo di setting ovviamente in anestesia generale o con una sedazione profonda, perché l'inserimento e la manipolazione della sonda transesofageo determinano un incremento pressorio che possono essere causa di estensione della dissezione e la creazione di nuovi TER. Il timing, il timing è sicuramente intraoperatorio perché il paziente che giunge in sala operatoria per l'approccio endovascolare è ampiamente studiato con l'attack e la risonanza magnetica. Il transesofageo ha una specificità e una sensibilità paragonabile alle altre due metodiche e fornisce informazioni rilevanti che possono cambiare il piano chirurgico in alcuni pazienti, per esempio la presenza di ateromi nella landing zone o poiché la dissezione aortica è una patologia dinamica, la creazione di nuovi TIR d'entrata. Il transesofageo svolge queste funzioni, permette quindi di verificare intraoperatoriamente la patologia aortica, guidare il rilascio dell'endograft, valutare la presenza di endolique e fornire un monitoraggio continuo della performance cardiaca. La diagnosi ecocardiografica della dissezione aortica si basa sull'individuazione del flap di dissezione che di solito ha un aspetto ecolucente e deve essere visualizzabile in diverse proiezioni ed avere un movimento indipendente dalle strutture circostanti. Con l'utilizzo del colorful doppler bisogna dimostrare la presenza di due tipi di flusso nel vero e nel falso lume. Il vero lume spesso è più piccolo, ha un'espansione di tipo sistolico e non presenta all'interno di solito ecocontrasto o trombi. Il falso lume, a differenza di questo, è più grande, ha un'espansione di tipo diastolico e può presentare all'interno trombi e di solito presenta ecocontrasto. Segni ulteriori per l'individuazione del falso lume è il cosiddetto big sign, ovvero l'angolo acuto che si viene da determinare tra il flap di dissezione e il falso lume. Ho la presenza nel falso lume delle cab webs, ovvero delle strutture a forma di ragnatela associate determinate dal deattachment e parziale interruzione della tonaca media. È sicuramente superiore all'angiografia nel valutare il corretto posizionamento della guida nel vero lume, ma è ancora probabilmente più utile e più importante nella valutazione, nella fase successiva, al rilascio del endograft. Infatti, qualora, nel momento, la corretta esclusione del ter principale di entrata è di solito associata alla trombosi del falso lume. Nel caso, invece, noi vedessimo, riscontrassimo uno swelling smoke effect nel falso lume, questo è l'indice della presenza di endolique oppure della formazione di nuove ter. A volte i ter sono già presenti precedentemente, ma vengono slatentizzati dal rilascio dell'endograft, che determina un incremento del gradiente pressorio tra il vero e il falso lume. È particolarmente utile nella detection di endolique, vanno ricercate attentamente quelle di tipo 1 e quelle di tipo 3, perché sono quelli associati ad una prognosi in fausta a lungo termine, per cui un approccio rigoroso e sistematico con il color doppler e il pulse wave doppler permette di distinguere quelle che sono porosità del dichron associate di solito a un pulse wave doppler con velocità più basse dal vero endolique, che di solito ha velocità al pulse wave doppler superiore ai 50 cm al secondo. L'utilizzo del ecocontrasto nel transesofageo permette di incrementare la sensibilità e la specificità, rendendolo superiore alla geografia, al transesofageo tradizionale senza ecocontrasto, nel detection di nuovi tirentrimali e di endolique. Nonostante non ci sia un clampaggio aortico, l'utilizzo del rapid pacing e del balucrine expansion possono slatentizzare ischemia cardiaca, quindi un monitoraggio continuo e sistematico della funzione sistolica e diastolica deve essere mantenuto durante tutta la procedura. È utile anche nella valutazione delle complicanze intraoperatorie, in maniera estremamente precoce, per esempio la presenza di insufficienza aortica dovuta a migrazione della guida nel ventricolo, oppure la presenza di tamponamento cardiaco o emoterace. Limiti della metodica sono legate sostanzialmente all'incapacità di visualizzare accuratamente l'aorta addominale, oppure la difficile interpretazione delle immagini ecocardiografiche a fronte di una tortuosità aortica e in alcuni pazienti possiamo avere anche un imaging subottimale dovuto alla presenza di artefatti come riverberi e mirrors. In conclusione il transesofageo permette di acquisire importanti informazioni intraoperatorie nei pazienti con dissezione aortica di tipo B sottoposto a intervento entovascolare. Certo non è come il miracolo di San Gennaro, come che oggi, però è sicuramente particolarmente utile. Grazie per l'attenzione.